In questa seconda parte dell'esercizio su Fetch vogliamo iniziare appunto a utilizzare le Fetch API. In particolare vogliamo utilizzarle per partire, per rimpiazzare questa tabella degli esami. Questa tabella degli esami al momento, ricordiamolo, è letta da un array JavaScript che è scritto direttamente dentro la classe exam manager. Noi vorremmo non leggere quell'array JavaScript già predisposto, statico, ma vorremmo recuperare queste informazioni dal nostro server REST che abbiamo realizzato la settimana scorsa. In particolare vogliamo andare a chiamare l'API slash exams che ci restituiscono tutti gli esami. Cosa vuol dire tutti gli esami? Vuol dire che queste API ci restituiscono un array in formato JSON composto da tanti oggetti JSON, quanti sono gli esami. E ogni oggetto avrà un codice, un nome e i crediti. Quindi rispetto a... no scusate questi sono i corsi... Avrà un codice, un voto e una data. Quindi rispetto alla tabella che abbiamo noi, il codice non ci serve da visualizzarlo, il voto ovviamente dobbiamo visualizzarlo, la data ovviamente dobbiamo visualizzarla, e ci mancano due informazioni, il nome e i crediti. Quindi per poter compilare questa tabella noi dovremmo in teoria fare una GET su exams per avere una lista di esami rappresentati da codice del corso, voto e data, e poi a partire da questo... da questo codice recuperare anche le altre informazioni che ci servono, cioè il nome e i crediti. Chiedendolo per esempio a Courses. Ma partiamo con una volta. Quindi le API che ci potrebbero servire sono exams, per avere tutti gli esami, e Courses, Courses o Courses col suo codice, per recuperare le informazioni che le API di esame non ci danno per poter riempire con successo la tabella. Allora, giusto per rinfrescarci la memoria, fatemi aprire i tre file che ci serviranno, abbiamo, quando questa pagina parte, essenzialmente si chiama il costruttore di app, il costruttore di app per riempire questa tabella cosa fa? Inizializza un nuovo oggetto di tipo... inizializza un nuovo exam manager e poi chiama il metodo dammi gli esami sostenuti da questo metodo. Tutto il resto sono la funzionalità dei filtri, sono il form, e poi c'è la creazione di questa tabella vera e propria, passando gli array degli esami. Quindi tutte le... e l'abbiamo fatta apposta, tutte le informazioni che servono a tutti i dati, tutte le informazioni grezze che rappresentano gli esami, le istanze di esami, sono in questo exam manager, che, se ricordate, era stata una scelta di progettazione, quella di dire che app gestisce cosa viene mostrato e come si interagisce con la pagina, ma le informazioni, il gestore dei veri esami, quello che manipola i dati degli esami, è l'exam manager. Questa distinzione che abbiamo fatto settimane fa, adesso ci torna utile. Perché? Perché sarà exam manager che dovrà chiamare le nostre API nella maniera opportuna per fornire poi la lista, un oggetto, un array simile a questo, alla nostra applicazione, alla nostra app .gds. Exam manager, ovviamente, per costruire questo oggetto, ha bisogno di questa classe, che è la classe di supporto per l'oggetto esame. Allora, iniziamo a modificare questa, togliendo le cose che non ci servono più. Quali sono le cose che non ci servono più? Non ci serve più avere un ID con un contatore. Perché? Perché l'ID, che per l'esame esiste, se ricordate nella tabella del database, viene fornito direttamente da, viene creato, mantenuto e fornito dal database del nostro server REST. Quindi non dobbiamo più preoccuparci noi di avere un ID e di incrementarlo di volta in volta, ma potremmo prenderlo direttamente dal database oppure dalle chiamate REST, che ce lo forniranno, oppure ignorarlo. In questo caso, dato che il codice è già univoco nella nostra applicazione, in quanto non possiamo avere un esame, due esami che hanno lo stesso codice, possiamo eliminare l'ID e il contatore relativo dalla nostra classe esame. Tutto il resto, invece, continuerà a rappresentare un esame, il codice del corso, il nome, i crediti, la data e lo score. In un certo senso, ripeto, il codice prende il posto dell'ID che avevamo prima. A questo punto, abbiamo detto che app crea un oggetto di tipo exam manager e poi si fa dare da queste istanze di exam manager gli esami sostenuti. Quindi app crea un oggetto di tipo exam manager e il costruttore in questo momento creava questo array statico. Noi non dobbiamo più creare un array statico ma dobbiamo chiedere al nostro server le informazioni sugli esami. Quindi questo, per il momento, andiamo a eliminarlo. Quindi il costruttore di exam manager costruirà una lista di esami che possiamo ottenere, se vogliamo, nella nostra applicazione web per avere un supporto. Per esempio, i filtri potrebbero continuare a utilizzare questa lista, visto che nel nostro caso, nel caso di questo esercizio, non abbiamo delle API per i filtri, per le date. Quindi potremmo, se avessimo delle API, potremmo dire, ok, quando primo 2020 richiedo al server gli esami del 2020, dato che non abbiamo API, dobbiamo farlo noi. Quindi una lista di supporto ci può servire in ogni caso. Ma anche avessimo delle API, una scelta potrebbe essere quella di continuare a farlo in locale, preoccupandosi in locale, lato client, preoccupandosi ovviamente di tenere di tanto in tanto, dove questo di tanto in tanto è la parte complicata, se volete, aggiornata la nostra lista di esami con quella che è presente nel database, che quindi viene fornita dal nostro server REST. Ricordate sempre che in un'applicazione web la sorgente della verità, la sorgente delle informazioni, la ground truth, è il server. Perché noi in questo momento abbiamo un client che è fornetto da un server, ma potenzialmente noi potremmo avere questa stessa pagina su 5, 10, centinaia di client diversi, ognuno di quali vuole, per esempio, aggiungere un nuovo esame. E allora se il client 1 aggiunge un nuovo esame e lo aggiunge sul server, il client 2, quando visualizza questa pagina o quando visualizza un filtro, deve ricevere anche un nuovo esame che è stato inserito da un altro client. Altrimenti le sue informazioni non sono aggiornate. Se non chiedesse sempre a server o al momento opportuno a server le informazioni necessarie. Quindi, torniamo a noi. Svuotiamo questa tabella, questa lista di esami perché vogliamo recuperarla dal nostro server, dal nostro database. Quindi se noi adesso aggiorniamo, ovviamente questa tabella rimane vuota perché l'abbiamo svuotata e però la console non mostra nessun errore perché giustamente non c'è nessun errore. Quindi ricordiamolo ancora una volta, app inizializzava exam manager e poi chiamava il metodo getPastExam. L'inizializzazione è fatta, qui non possiamo più ritornare semplicemente questo, perché questo in questo momento è vuoto, ma dobbiamo andare a prendere, anzi, a chiamare l'API che ci serve, quindi dobbiamo chiamare l'API exams, che ricordate è una get su localhost 2.3000 exams. Dato che questo è fornito dallo stesso server e siamo già al localhost 2.3000, ci basterà fare una chiamata a slash exams. Come facciamo questa chiamata? Questa chiamata la facciamo col fetch che abbiamo visto a lezione. quindi come ricorderete il fetch è un'API semplice soprattutto per le get e si scrive fetch è l'indirizzo parziale o assoluto che vogliamo chiamare. Quindi in questo caso potevamo scrivere http 2.00 barra barra localhost 2.3000 ma dato che noi siamo già su localhost 2.3000 possiamo semplicemente scrivere exams. Quindi questo è quello che ci fa la nostra chiamata get. Quando il server riceve questa chiamata get come abbiamo visto prima lui risponde con un JSON che contiene tutti gli esami. Quindi qui ci dobbiamo aspettare una risposta. Facciamo una richiesta get e otteniamo una risposta. Ora, se ricordate dalle lezioni, la fetch ritorna una promise. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi facciamo questa fetch, questo oggetto response inizialmente diventa una promise, un oggetto vuoto che rimane in attesa, un contenitore vuoto che rimane in attesa di essere riempito. In attesa di cosa? In attesa del server che risponderà opportunamente o con un errore oppure con la nostra lista di esami da inserire qui. Quindi se noi scriviamo solo così e poi scrivessimo qualcos'altro dopo, per esempio console.log response e aggiornassimo la pagina. Al di là dell'errore, perché ovviamente exams non è iterabile in quanto non esiste, questo non torna niente in questo momento, ma vedete che questo console.log ci stampa una promise, una promise pending che non è ancora stata risolta e a un certo punto questa promise, vedete che c'è l'url, eccetera, a un certo punto questa promise avrà al suo interno una risposta. Una risposta in questo readable stream eccetera eccetera eccetera. Noi ovviamente non vogliamo manipolare la promise che è in attesa, noi vogliamo prendere la risposta di questa promise, vogliamo che la promessa venga mantenuta in un certo senso, venga soddisfatta. Allora per farlo abbiamo due modi. Il modo diciamo classico con cui si gestiscono le promise, giusto per ricordarci, che abbiamo in parte già visto per il database, quindi exams.den e all'interno della den fare qualcosa, e questo approccio ha lo svantaggio che a un certo punto all'interno di questa den dovremmo creare, probabilmente avremo bisogno di un'altra promise, perché se ricordate da sempre dalle slide la fetch restituisce una promise, ma questo response a sua volta per essere manipolato restituisce a sua volta un'altra promise. E quindi avremo una promise, questa, dentro questo den avremo a un certo punto un altro den e poi dato che sappiamo già che noi avremo bisogno per stampare questa tabella del nome dell'esame, che non ci viene fornito da quest'API, ma ci viene fornito dall'API dei corsi, avremo bisogno all'interno della seconda den una terza fetch, che a sua volta avrà una sua terza den, e poi una sua risposta e quindi una sua quarta den. Quindi andremo a concatenare e a spostarci sempre di più verso destra. E' però corretto e fattibile in JavaScript e sappiamo anche, da quando abbiamo parlato delle promise, che esiste la sync e la wait che ci permettono di utilizzare le promise, ma di scrivere codice in maniera tradizionale, in maniera sincrona, anche se il codice non è sincrono. E allora l'equivalente di fetchExam.den, in cui qui dentro in realtà avremo response, eccetera, è quello di scrivere let response uguale await fetch. Queste due righe sono essenzialmente equivalenti. Andiamo con questa, così avete un esempio anche diverso di come manipolare le promise, visto che quella col den lo avete già dal database che abbiamo utilizzato la settimana scorsa. Ripeto, cosa fa questo? Questo fa una get a questo indirizzo a localhost 2.3000 exams, quindi a questo, slash exams, quindi fa una get a questo. A un certo punto il server risponderà, sarà abbastanza veloce, vedete, ci mette un secondo a rispondere, ma nel frattempo in questo secondo questa promise, questa response rimane in attesa, rimane vuota, rimane un contenitore da riempire. Dopo un secondo 115 viene invece riempito, viene riempito con cosa? Con questo contenuto. Allora facendo così, se noi aggiorniamo la pagina, vedete che noi qui abbiamo sempre una promise, però che il valore è il response. Anche prima vedevamo così perché è una richiesta abbastanza veloce in realtà, perché? Perché la response a sua volta ha una sua promise. Ma nel caso per esempio di un server più lento, questo sarebbe ovviamente stato ancora in attesa di informazioni. Ora, il response a sua volta è una promise, quindi abbiamo bisogno di aspettare di nuovo la sua manipolazione. E cosa dobbiamo manipolare da response? Da response dobbiamo prendere il suo contenuto, il suo contenuto nel body che è di tipo json, perché ce lo dicono le API, che sarà di tipo json. Quindi stiamo dicendo con questo metodo, prendiamo il body da response, body che sarà sicuramente di tipo json, e lo consumiamo e lo convertiamo in oggetti javascript che rappresentano quel json testuale. E questo potremmo per esempio metterlo in una variabile che possiamo chiamare exams.json. Di nuovo questa è una promise, quindi await. A questo punto possiamo controllare che questa risposta sia effettivamente corretta. Ora, sempre dalle slide, voi dovreste ricordare che response, questa promise, viene sempre riempita tranne che per problemi di rete. Quindi se il server fosse non raggiungibile, perché l'indirizzo è sbagliato, perché il server è spento, allora probabilmente quella promise non verrebbe, ovviamente dato che questo è lo stesso server che fornisce sia la parte client che la parte server, se fosse spento tutto questo non funzionerebbe, ma per qualche motivo di rete diciamo che la richiesta è partita. Se la richiesta non riuscisse a tornare, la risposta non riuscisse a tornare, allora la promise non sarebbe soddisfatta, ma sarebbe rifiutata. In tutti gli altri casi la promise è soddisfatta e response contiene o le informazioni che abbiamo richiesto o eventuali errori che magari il server dà perché non funziona il database, per esempio, o c'è una query sbagliata o quant'altro. Quindi dobbiamo controllare se in questa response, questa response è data a buon fine oppure no. Come possiamo fare, prima di procedere ovviamente, possiamo fare con il metodo response.ok, con la proprietà response.ok. Quindi stiamo dicendo se la proprietà, se la response.ok, quindi se abbiamo ricevuto qualcosa da 200, HTTP status 200 in su, nel range del 200, allora dentro exam.json ci saranno gli esami veri e propri. Altrimenti, se questo non è andato a buon fine, possiamo lanciare un errore. E qual è questo errore? L'errore è sempre exam.json, perché di nuovo questa promise viene sempre soddisfatta e questo exam.json può contenere, nel caso della risposta ok, la lista degli esami, nel caso di una risposta non ok, l'errore in formato json da stampare. Allora, dato che noi abbiamo usato await, questo è in un certo senso l'equivalente del, potrebbe essere l'equivalente di un catch, quindi questo else. Quindi in questo caso lanciamo un'eccezione, un errore, che poi verrà gestito da chi chiama questo metodo. Cosa facciamo in response.key? In response.key vorremmo prendere questo json, vediamo com'è fatto. Prima di tutto, potremmo prendere questo json e ci piacerebbe tanto convertire questo json, che sono oggetti javascript, in esami strutturati in questo modo. Esattamente in questo modo, quindi per esempio con date, che è un oggetto di tipo moment e non è una stringa. Ma vediamo un attimino com'è fatto questo example.json. Ok. Prima di tutto ci dà un errore, perché non ci stampa niente? Ci dà un errore alla riga 14, quindi appena usato await. Perché? Perché await, dobbiamo ricordare, che va sempre in coppia con async. Quindi async e await. Non si può usare await senza che la funzione che la contenga sia async. E allo stesso modo non possiamo usare async nel costruttore, quindi il costruttore non può utilizzare al suo interno await, ma se avesse bisogno di una promise dovrebbe utilizzare .den. Quindi aggiorniamo nuovamente. Ignoriamo un attimo l'errore che è in app.javascript, che ovviamente dà errori perché non abbiamo ancora restituito niente, e vediamo che in effetti ci tornano gli stessi quattro esami, che sono memorizzati qui, con lo stesso formato. Però vedete che per esempio la data è una data testuale, non è una data di moment, di tipo moment. E invece noi la vorremmo tanto di tipo moment. E che per esempio noi abbiamo un id in questo javascript, ma che abbiamo detto che nel nostro caso l'id non ci interessa perché usiamo il codice come id nella nostra applicazione client. E allora quello che vorremmo fare è in un certo senso dire this.exam, che è la nostra lista di esami che poi passiamo alla nostra app.javascript, è uguale a exam.json. Però se diciamo così, in this.exam ci va a finire questo, con l'id, che abbiamo detto che non vogliamo, e con una data che non è di tipo moment. Allora, quello che dobbiamo fare è in un certo senso dire che questo deve essere un new exam in un certo senso. O meglio, dovrebbe essere un nuovo array di exam. Questo ovviamente non è javascript. Vorremmo che qui dentro ci fosse un nuovo array di esami che derivasse da questo. Come lo possiamo fare? Possiamo farlo definendo per esempio un metodo dentro exam che potremmo chiamare per esempio exam.from che preso un singolo esame, un singolo esame json, mi torni il suo corrispondente non json. Quindi potremmo scrivere una cosa del tipo exam.json.map. Exam.json è comunque un array, vedete un array di oggetti, punto map.exe, quindi per ogni esame in questo array di oggetti, chiamo il metodo exam.from. Il metodo exam.from che, partendo dal json, mi creerà un oggetto di tipo exam. Quindi andiamo a creare questo metodo from. Questo metodo from è ovviamente un metodo statico, perché l'abbiamo chiamato sulla classe, che abbiamo chiamato from, che prende un oggetto di tipo json, ricordiamoci, chiamiamolo json, è un oggetto javascript costruito a partire da un json. E cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che questo oggetto json deve diventare, deve chiamare essenzialmente questo costruttore, deve diventare un oggetto di tipo esame. E allora noi siamo anche abbastanza, in un certo senso fortunati, perché questo oggetto, vedete, ha già code, che si chiama come piace a noi, a score, che si chiama esattamente come piace a noi, a date, che al di là della conversione in moment è quello che piace a noi, a name, che si chiama come piace a noi, e poi id, che a noi non interessa. Quindi la conversione è in realtà una conversione 1 a 1. E come facciamo questa conversione? Questa conversione la facciamo con il metodo object.assign, che crea un nuovo oggetto. L'abbiamo sempre usato quando abbiamo parlato dei prototipi. Che cosa assegniamo? Assegniamo a... Assegniamo questo json che viene passato alla nuova classe esame. Quindi stiamo dicendo, in un certo senso, per ogni proprietà di questo json, chiamiamo il costruttore e creiamo un oggetto esame. Questo oggetto esame lo ritorniamo, per esempio lo chiamiamo e. Quindi questo oggetto e sarà la rappresentazione dei dati che abbiamo in questo array, in ogni singolo oggetto che deriva dal json, ma costruito col costruttore di esami. Se ne facciamo solo questo, potremmo per esempio ritornare e. Così il metodo map dall'altra parte sa fare il suo lavoro. Se ne facciamo questo, abbiamo un problemino. Il problemino è che date qui è in formato di stringa, invece noi lo vorremmo in formato moment. E quindi quello che dobbiamo dire è fare questa conversione esplicitamente, perché automaticamente non la fa. e dire e.date uguale a moment di e.date. Quindi forzare, quindi l'assign cambia in un certo senso il prototipo di questo json, lo fa diventare di tipo esame, e quindi assegna la classe giusta, se qui avessimo altri metodi da questo momento in poi potremmo chiamarli, su questo oggetto è, su questo oggetto è, ma non chiama effettivamente questo costruttore e quindi non fa effettivamente questa conversione. E quindi questa conversione dobbiamo farla noi, visto che ci teniamo che date sia di tipo moment, perché poi usiamo i metodi di moment per manipolare le date. E quindi a questo punto torniamo la nostra rappresentazione dell'esame, la nostra rappresentazione dell'esame json in secondo la nostra rappresentazione del client dell'esame. Quindi qui, a questo punto, la nostra this exam è davvero la lista di esami, di oggetti esame come avevamo prima. ma, come dicevamo, quindi se noi qui visualizzassimo data, codice, voto, e basta, quindi se invece di esame avessimo il codice e invece di crediti non avessimo niente, avremmo finito e potremmo fare return this.exam. Purtroppo non è così. Non è così perché noi abbiamo i crediti e noi abbiamo il nome dell'esame, ce l'abbiamo, in realtà abbiamo i crediti. I crediti è un'informazione che qui non è disponibile. E come vi dicevo prima, è disponibile invece all'API slash courses o slash courses, due punti code, quindi il codice del corso. Quindi dobbiamo chiedere nuovamente al server l'informazione mancante che è i crediti e poi unire l'informazione mancante a questo this.exam in modo che in questo oggetto this.exam esattamente come prima ci sia la data, l'esame, il nome dell'esame, i crediti e il voto. E ripeto, di tutti questi i crediti è l'unico che in questo momento non abbiamo. Come facciamo a farlo e possiamo riutilizzare il response di prima con un altro fetch. Quindi await fetch di courses courses slash il codice. Quindi non chiediamo tutti i corsi e poi cerchiamo di fare un'unione tra gli esami che abbiamo sostenuto e i corsi che sono relativi a quegli esami, ma andiamo a chiedere i singoli codici. le proprietà dei singoli corsi che sono rappresentati in questo exams. Quindi ovviamente dobbiamo chiederlo una alla volta, se noi ne avremo quattro dobbiamo fare quattro richieste a Kttp. Quindi for const exam of this.exams facciamo la richiesta. Quindi accicliamo su questo array e per ogni codice di esami di questo array facciamo la richiesta, la memorizziamo in response e esattamente come facevamo prima ci serve un constant course json chiamiamolo così, così ci ricordiamo che è un json deriva è un oggetto che deriva da un json response.json non è quindi il nostro oggetto interno magari esame magari corso ma è un oggetto generico javascript che è automaticamente convertito dal json però è un oggetto javascript quindi possiamo utilizzarlo come utilizziamo un oggetto javascript se non ci interessa avere proprietà particolari quindi di nuovo come prima se response.ok se response.ok cosa dobbiamo fare questa volta? dobbiamo fare che exam.credit è uguale a course.json.credits cioè andiamo a prendere da questi o da ognuno di queste risposte il valore che ci serve e dato che questa risposta è esattamente quella per il codice di questo esame allora i crediti di questa risposta saranno i crediti che dovranno essere memorizzati nella proprietà credits d'esame che dato che abbiamo costruito a partire da qui esiste e sarà semplicemente vuota nel nostro caso quindi andiamo a riempirla così a questo punto dopo i for possiamo come abbiamo fatto prima come abbiamo già scritto ritornare dis.exam dis.exam avrà appunto sarà appunto la nostra lista di esami possiamo anche se volete console.log stamparla così la vediamo un attimo questo c'è un errore ok e vedete qui l'abbiamo stampata ignoriamo sempre un attimino l'errore sopra vedete che in effetti questo dis.exam contiene quattro corsi quattro esami di tipo esame quindi non più come prima che erano oggetti generici con le informazioni che ci servono codice nome crediti data di tipo moment questo m sta per moment se lo espandiamo lo vediamo is a moment object e il voto per tutti i quattro esami che avevamo prima ora questo metodo viene chiamato da app e viene memorizzato in exam e quindi se noi aggiornassimo ci aspetteremmo che tutto fatemi cancellare questo ci aspetteremmo che tutto funzionasse e invece no e invece ci dice che exam non è iterabile perché? perché guardate cosa succede se io faccio exam.log qui speriamo che si veda di this.exam vedete cosa succede in questo this.exam che che dovrebbe essere perché è quello che abbiamo tornato no? abbiamo tornato un array this.exam è un array di esame l'avamo stampato prima lo vedevamo cosa succede in app nonostante siamo nella riga dopo di questo get.parse.exam succede che leggiamo promise non array di oggetti ma promise di un solo oggetto perché? perché get.pass.exam è una funzione perché l'abbiamo definita così è una funzione asincrona ed è una funzione asincrona perché deve fare due fetch e due analisi delle risposte di queste fetch e quindi abbiamo bisogno di dire a questo punto essendo asincrona ritorno una promise quindi questo this.exam sarà la promise quindi quando il browser esegue questo codice esegue questa riga esegue questa riga esegue questa riga chiama questo metodo e immediatamente ritorna cosa ritorna? ritorna una promise e nel frattempo che questo viene riempito come promise questo viene stampato da console.log probabilmente dopo un po' facciamo finta qui questo get pass esame ritornerà davvero la nostra lista di esami però noi ormai l'abbiamo già stampata e quindi non possiamo vederla perché ci mette un secondo il browser vedete se guardiamo le chiamate ci mette un secondo prima ci ha messo un secondo adesso ci ha messo otto secondi a rispondere poi ce ne mette mezzo secondo un secondo a rispondere per ogni corso quindi qualche secondo d'attesa ce l'abbiamo in totale e quindi qui ovviamente è molto più veloce anche se essendo un 304 non dovrebbe essere otto secondi ma diciamo che aspettiamo un paio di secondi un secondo e invece questo è sicuramente molto più veloce perché sono tre istruzioni in fila quindi noi dobbiamo anche qui possiamo utilizzare potremmo in teoria utilizzare quello che abbiamo utilizzato su exam manager quindi await ma await funziona solo se la funzione che lo contiene è di tipo async e noi abbiamo detto che un costruttore se proviamo e lo eseguiamo vedete ci dice che il costruttore non può essere un metodo async quindi in questo caso abbiamo due alternative una creare una funzione fittizia che racchiuda tutto questo oppure utilizzare il metodo classico per gestire le promise facciamo il metodo classico così abbiamo un esempio qual è il metodo classico? il metodo classico è dire pass main pass get passed exam punto then then exams perché è quello che ci restituisce quindi quando questa promise viene soddisfatta questa variabile exams sarà piena e questo codice tra le parentesi graffe verrà eseguito verrà eseguito in maniera sincrona quindi se noi qui dentro per esempio andiamo a mettere console.log exams questo exams qui e aggiorniamo vedete che stavolta exams non è una promise ma è effettivamente la nostra array di esami quindi qui dentro abbiamo le informazioni che ci servono cosa facciamo adesso? beh cosa facciamo qui dentro? facciamo esattamente quello che facevamo prima tutto quello che facevamo prima solo che invece di farlo fuori in maniera asincrona lo facciamo solo quando abbiamo questa informazione perché solo quando abbiamo questa informazione? perché questa informazione è quella che va passata non tanto a filter non tanto al form ma a show exam oppure potremmo dire this.exams uguale exams ma in ogni caso non cambierebbe che tutto va fatto una volta che questo exams è disponibile perché non possiamo creare un form per inserire nuovi esami se non abbiamo la lista degli esami dove lo inseriamo non possiamo filtrare finché non abbiamo la lista degli esami quindi tutto questo va fatto poi all'interno di questo metodo di questo di questo den se questa promise volessimo anche intercettare l'errore che viene lanciato opzionalmente da questo throw potremmo anche qui scrivere ovviamente punto catch e andare avanti e concatenare le cose quindi aggiorniamo questo e facciamo refresh vedete che facendo refresh abbiamo ottenuto la nostra tabella nuovamente funzionante con nessun errore e i filtri funzionano sul 2019 non c'è niente quindi il filtro rimane fa vedere la tabella vuota fa vedere tutto sul 2020 e tutto è anche il 2020 ok questa è la modifica che ci serve per richiamare una get con la fetch nel prossimo video vi mostrerò invece la soluzione di come implementare questo form in maniera da prendere questo elenco di corsi dal nostro server di nuovo dalla get courses e come salvare con una post il nostro nuovo esame sul server in modo che questa tabella poi lo possa visualizzare e lo possa mantenere salvato perché è salvato in realtà sul server è salvato nel database base